Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono Fikachu, finalmente raga registro, voglio continuare la mia carriera da youtube e vi ringrazio molto che ci siamo arrivati a un botto di iscritti raga, cioè non così tanti, però siamo arrivati ai 10, siamo quasi sotto ai 20 iscritti quindi ci potremmo arrivare pure, che oggi faremo il video che è, se un brawler mi uccide devo usare il brawler che mi ha ucciso, e lasciate like e iscrivetevi al canale se volete altri video di come questi, e poi se arriviamo ai miei iscritti raga, farò questa cosa, se perdo, se muoio, se muoio, mangio un biscotto, ci arriviamo a questo, cioè mangio qualcosa che devo organizzare, ci arriviamo a questo, i miei iscritti lo spero, quindi va bene le challenge, andiamo con Meryl, andiamo con Meryl, andiamo con Meryl, che non fa mai male, sono indossato il pigiama, aiaiaiai, per compriarla quando ho fatto 10 anni, ok muori, quindi ti faccio un mio giro, se non lo so, è girato e basta, e non parlo in italiano, mi vieni qua, mi vieni qua, mi vieni qua, mi vieni qua, sono morto, ragazzi per uscire non voglio un ammettigiano, ok, ok, c'è un colpo ed era morto, non ho mai che mi vieni qua, ok, ok, non sono morto, non sono morto, perché non mi vieni qua, chillando, allora raga, un'informazione, se vinco ancora, se vinco ancora, devo stare sempre a prima, se vinco e arrivo prima, se arrivo primo, c'è nessuno, mi ha chiuso, ok raga, ho fatto malato, da quello, no no no, sto morendo, sto morendo, aiuto, no 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 no, sarà morto, non lo so, no, e parlo in italiano, sono andato a schiantare forse, andiamoci a indossare il nostro neo nozzo, ecco, ma non è che ce l'avevo, se no già nella prima kill, cioè non indossavo niente, ecco, non indossavo niente, vabbò, vandali, no, eh che cavolo sta sfida, ok, eh, l'acqua, e poi pane, che li mangia, leonosso, in realtà leon mangia la tanna, perché è un leone, un po' un ninja, deve ingrassare, in realtà, lui è vegetariano, perché è vegetariano perché, perché deve essere magro per essere un velo ninja, un velo camaleonte, vabbè che ha leon un inmischio, tra un leone, perché è camaleon, tra un camaleonte, e tra un ninja, ogni tre inmischio, cioè come la pulsione di Goku, però, però, però con di tre, come se si fosse comina Goku, Vegeta, e piccolo, o non che, e dove, Billy, come si chiama, non lo so, piccolo perché è basso, comunque, manco io, e formano, P-Vegu, 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 formano, il nome P-Vegu, perché è P, con il nome di piccolo, V con il nome di Vegeta, Q con il nome di Goku, non ti posso credere, non ti posso credere, non ti posso credere, che era che mi aveva ucciso, ah, ok, aspetta, aspettate, non è bello un bicchiere d'acqua, aveva un bicchiere d'acqua, c'è il tavolo, guarda lei deve morire, Filippo, oh mio Dio, no, perché l'ho detto, non si può dire, oh mio Dio raga, per scopi mani, o dire, non dire, oh mio Dio, con occhi a rabbi, oppure per cose stupide, come l'ho fatto io, che ho detto, oh mio Dio, per cose stupide, ok, allora vieni qua, raga, non si deve dire veramente, io ho fatto lo sbaglio, e giuro che non lo farò più, perché non si dice, ho studiato gli comandamenti, quando andavo in testa, vieni qua, allora vado alle medie, ora vado alle medie, oh oh oh, vieni qua, non volevi, vieni qua, sono matta, guarda, non mi venne con l'altra, mi sono ritrovata, è giustata le uccide, no, sono matta, lo sapevo io, io lo sapevo io, tre coppe, tre coppe, vabbè, 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 che mi aveva ucciso, no, che mi aveva ucciso, raga, no raga, però che mi aveva ucciso, no, no raga, mi ero scattato, che mi aveva ucciso, vabbè, scegli no, 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 che mi aveva ucciso, no, che mi aveva ucciso, genio, vero, vero, ci sei un genio, con la sua, atomized di mad, e, quindi, sbocchiamo la fine, più terrificante, classico, penso, ma che, e, volevi, però, fermo a leggere, i, come si chiama, a leggere, come si chiama, a leggere i video, chi segue, Gisgras, è un mio amico, cioè, non è un mio amico, perché c'è un mio amico, che si chiama, quello è il nome, di Gisgras, quindi, da alcuni, mi sembra, vero, grazie, però, con gli abici, lo si possono ricordare, ma io, raga, vedi che, l'abbiamo, lo ho incontrato, e l'ho invitato, perché ce l'ho con l'amico, se vedete, ce l'ho con l'amico, per vero, in blu, stanno, e c'è un altro mio amico, che mi ha rifiutato, la richiesta di amicizia, e io sono, vabbè, ve lo faccio vedere, perché, mi metto 8 bit, mi metto 8 bit, e poi ve lo faccio vedere, forse, oppure, uno di qualche, o sono uscito, dalla mia amicizia, perché, ho un amico, che raga, aspettate, prima mi metto 8 bit, ok raga, qui, allora, il primo, è best of fun, capriano, dan, fort, gispepe, gisgratz, ecco, lui, profilo, proprio lui, raga, guardate, guardate, gisgratz, raga, gisgratz, ecco, ecco, anche, il mio amico, anche, online, due giorni fa, il mio amico, anche, raga, eccolo qui, non ho già così, tanto, boosta, effetti, a 9.706, c'è, è più forte, rata, di mio, di, gas, guardate, tra livello 10, manonami, poche coppie, qui ci sono io, Pikachu, guarda, se vi volete unire, dovete unire a questo club, Pikachu, ecco, Pikachu, con la schermata qui, le postazioni, che si devono unire, pure ad altri, vero, perché le ho messo a mille, il mio costo di zero, anzi, ma raga, lo sai cosa facciamo, lo sai cosa facciamo, l'ultimo su invito, sei privato, su invito, ok, in questo momento, mi sputta qui, e l'accetto, allora, facciamo l'ultimo partito, sai raga, e vi dico ciao, che, che dopo, andrà a mangiare, per te, sono le 6 di sera, non so che ore sono, io non sono un ecologista, non sono un ecologista, e, la buba delle ceva, fa cu, ahhh, che, 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 che uli, che fai, ahhh, 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 mi si stacca la spina, non ci posso credere, io sono morto, di sicuro, ragazzi, aspettate, ok, ok, se tu freddo, cala, perché sono fuori, muori, che, che, stimare, ah, ah, perché, ah, raga, no, raga, vediamo se posso registrare, quando esce un nuovo aggiornamento, di, alun, vediamo se posso registrare, ca, butta, e sono morto, nel fatto, eh, porca, adios, amicos, come cazzo, ahhh,